terzo anno al giro d'italia e con le bici elettriche io sono molto motivato faccio parte del team Enit come sappiamo benissimo Enit ha 28 sedi nel mondo dunque noi abbiamo gente ospiti che vengono un po da tutto il mondo il mio compito sempre il solito è quello di controllare che tutto si svolga nella maniera più corretta in realtà non è una competizione vera però è normale che quando parte ci sono delle prove speciali che dobbiamo rispettare alcune medie che normalmente sono più basse però il mio obiettivo è quello di far divertire questa gente che sono influencer giornalisti che poi devono parlare bene della nostra Italia Grazie a tutti per aver guardato il nostro canale!